Alle proteste di domenica mattina da parte di alcune associazioni ambientaliste è arrivata puntuale la risposta del Comune di Pesaro. Allo slogan «Ora basta il Parco Miralfiore esige rispetto» l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha voluto far chiarezza sugli interventi che finora sono stati compiuti nell'area verde di Pesaro e quelli che verranno portati a termine in futuro. È un parco urbano, non è una foresta protetta innanzitutto e chi amministra la città si deve prendere delle responsabilità. In questo momento la priorità è la sicurezza, stiamo facendo un grande lavoro assieme a tutte le forze dell'ordine e anche questa mattina vedete che sono impegnate qui con i cani. La prima cosa che ci preme è mettere in sicurezza questo luogo, un luogo dove non vogliamo nasconderci dietro un dito che è occupato in maniera abusiva da certe persone una piccola parte di questo parco. Noi dobbiamo lavorare per renderlo tutto fruibile alla comunità. Volevo sottolineare il fatto che noi stiamo ripunendo il sottobosco, abbiamo tutte le autorizzazioni del caso, non facciamo niente di illegale o di illegittimo, magari potrà essere poco opportuno per qualcuno, ma abbiamo avuto la visita dei carabinieri forestali più volte, quindi questo manifesta il fatto che oggettivamente stiamo compiendo atti legittimi. La manutenzione del parco Miralfiore è un intervento che l'amministrazione comunale svolge ormai da anni, dopodiché c'è stata la pandemia e quindi le operazioni sono state interrotte, ma poi sono riprese successivamente con la pulizia della zona vicina alla ferrovia. Già una polemica c'è stata quando abbiamo pulito il lato a ridosso della ferrovia, che era mal frequentato, abbiamo ripulito il sottobosco, dopo qualche mese è cresciuto tutto di nuovo, l'abbiamo ripulito un'altra volta, quindi stiamo facendo delle azioni legittime che magari qualcuno potrebbe anche non condividere, ma questo non è che la pensiamo tutti allo stesso modo. La divergenza di idee e la visione diversa da parte degli intenti è un aspetto accettabile secondo Belloni, ma che considera per certi versi non veritiero quando alcuni componenti di queste associazioni vogliono sfruttare a per il suo solamente la visibilità offerta. Io rispetto l'opinione di tutti ovviamente, specialmente chi lo fa con il cuore, perché io penso che come tutte le situazioni c'è sempre chi vuole strumentalizzare il momento e il contesto, magari che ne so, tra qualche mese vedremo qualcuno di più facinorosi che si ritaglierà un ruolo in qualche consiglio di amministrazione da qualche parte, non lo so. Ripeto, io credo nella buona fede di alcuni, fazzi per primo se vogliamo fare i nomi, visto che qualcuno ha fatto i nomi, però bisogna in qualche modo capire che questo parco è di tutti. La nostra operazione è un'operazione che non è gratuita, quindi non ci divertiamo né a fare i rispetti né a spendere i soldi, ci divertiamo insomma, vogliamo far sì che questo sia liberato in qualche modo. Una liberazione del parco che il comune di Pesaro sta portando avanti in sinergia con le forze dell'ordine. Una collaborazione che sta portando già dei buoni risultati, ma che è sotto l'occhio di tutti, che per poter contrastare ulteriormente la criminalità che da tempo vive nel parco, occorre un lavoro attento e costante. Nel frattempo l'amministrazione cerca di rendere vivibile e frequentata l'area verde più importante della città. Noi come amministrazione comunale cerchiamo di portare nel parco quanti più eventi possibili, perché gli eventi sono quelli che fanno la differenza. L'abbiamo fatto d'estate e continueremo a farlo finché il tempo ce lo consiederà. Non a caso domenica facciamo il nostro mercatino, per la prima edizione un mercatino di scambio per i bambini, che poi vorremmo ripetere tutti i mesi. Nel progetto che vede impegnato il Comune di Pesaro nella manutenzione del Miralfiore, sarà coinvolta anche l'esperienza e la conoscenza in materia dell'Istituto Agrario Cecchi. Ci siamo attivati anche con l'Istituto Cecchi, quindi l'Istituto Agrario Cittadino, per riuscire a condividere un progetto. Abbiamo fatto un sopraluogo con il dirigente, abbiamo fatto un sopraluogo con gli insegnanti. Ieri è venuto qua anche il funzionario della regione che autorizza gli interventi sul parco e devo dire che non c'è stato rilevato alcun che. Quindi continuiamo nel nostro lavoro, siamo disposti a chiacchierare con tutti, però senza pregiudizi, né da una parte né dall'altra.